E all'improvviso comincia un'intensa aspetto. Viviamo la storia senza paura, in prima linea, minuto per minuto. Per dare voce a ogni realtà che deve essere raccontata. Perché crediamo che la forza più grande, dietro ogni notizia, siano le persone. Rai News 24, al cuore dell'informazione. Raccontiamolo oggi, anticipiamo il domani. Canale 48